Allora, buongiorno a tutti, salve, sono contenta di essere qui, ringrazio principalmente chi mi ha invitato, quindi nella persona di Dianora Bardi e ImparaDigitale che mi ha invitato a questo tavolo, che ho organizzato con molto piacere e passo immediatamente per non por tempo in mezzo a presentarvi i miei ospiti, gli ospiti che ho deciso di portare a questo incontro. Allora, il primo è Alberto Rossetti, è psicoterapeuta e scrittore, buongiorno Alberto, buonasera Alberto, benvenuto, è esperto nella cura del disagio psichico e dei problemi degli adolescenti ed è specialista in percorsi di sostegno alla genitorialità, scrittore di articoli e libri sui giovani e l'innovazione. L'ultimo titolo, ve lo faccio vedere, eccolo qua, è Tutti a casa, di cui parleremo anche oggi, forse ci legge anche qualche testimonianza, amici, scuola, famiglia, cosa ci ha insegnato il lockdown? E poi ha scritto anche i giovani non sono una minaccia, insomma e anche tante altre cose e articoli molto interessanti. La seconda ospite di oggi è invece Elisa Salamini, Elisa Salamini ciao, ciao Elisa, è co-founder del portale mammamò.it che ha vinto il premio Andersen come miglior progetto digitale del 2018, il premio Andersen è il premio top della letteratura infantile, diciamo che è, non so, tipo il premio strega per i libri normali da adulti, ok? Da anni si dedica ai temi dell'educazione ai media e tiene corsi rivolti a genitori insegnanti bibliotecari sui contenuti digitali per i ragazzi. Con Roberta Franceschetti è autrice di libri, di cui uno qua, mi spiace far vedere solo una foto, ma purtroppo il volume l'ho lasciato in ufficio e quindi non ce l'ho in mano, ma vi assicuro che è molto bello e molto interessante, youtuber manuale per aspiranti creator, dedicato ai nostri ragazzi sostanzialmente, a chi vuole diventare youtuber. E educare ai nuovi media percorsi di cittadinanza digitale per l'educazione civica, che è in uscita invece a febbraio. Fa parte del team creativo dei Meteo Heroes, che è un'applicazione mobile e anche un cartone animato a tema ambientale. Poi abbiamo con noi la mitica Valentina Petri, che è laureata e professoressa d'italiano, blogger e autrice di Portami il diario. Eccolo qua. Ciao Valentina, benvenuta. Anche lei, lei racconta in questo libro in modo ironico, lo vedrete anche, il mondo dell'azionale popolano e ha il suo tentativo di adeguarsi alla società di oggi e alle sue contraddizioni. Portami il diario nasce un'azionale popolazione piena di like e di condivisioni, dove all'inizio ha tentato di rimanere anonima, ma non ce l'ha fatta sostanzialmente, alla fine non ce l'ha fatta. E poi ci sono io, va bene, io sono Iolanda Restano, mi occupo di famiglie web da 25 anni, prima con i miei siti come filastroche.it, blog mamma e mamma che club, e poi con un'agenzia di comunicazione che si chiama Fattore Mamma, che è proprio con le mamme e le famiglie giovani, e quindi mi permette di avere un punto di vista privilegiato su quello che sono le famiglie e le loro problematiche. Ma partirei subito con darvi qualche dato. Io vi do qualche dato. Allora, un attimo solo che, ecco qua, dovrei condividere lo schermo, vediamo se ce la facciamo. Naturalmente nelle prove veniva immediatamente, mentre invece in diretta non è così facile come sembra. Vediamo, se no chiedo l'aiuto dalla regia. Eccola qua, c'è stata. Allora, vi do giusto qualche dato su quello che è, ciò di cui andiamo a parlare. Allora, intanto in Italia non c'è, lo sappiamo da anni, che la città dei figli, il numero di nascite in Italia continua a crollare. L'Italia non è un paese per bambini e per mamme. Infatti i dati continuano a essere sempre più bassi. Quest'anno l'Ista dice stati 40 mila di antica età, vale a dire circa 12 mila meno dell'anno precedente. Quindi c'è una decrescita da tempo, da anni che c'è questa decrescita. Adesso vi farò vedere anche il grafico. In dieci anni le nascite sono diminuite di un quarto. E si prevede che nel 2021 scenderemo al di sotto delle 400 mila nascite. Tra l'altro, una volta a tenere un pochino più alto il numero delle nascite erano i figli degli immigrati, invece adesso cosa succede? Gli immigrati arrivano in Italia e anche loro di figli non ne fanno più. E questo qualcosa vorrà dire. Secondo me, ovviamente, parere personale, il problema è anche che l'Italia purtroppo non ha un sostegno alla famiglia, non ha un sostegno adeguato a quelle che sono le famiglie e i loro bisogni, così come non ha un sostegno adeguato alla scuola. Lo vediamo anche in questo periodo di lockdown, la scuola è stata e continua a essere la prima a chiudere e l'ultima che riapre. Anche adesso in questi giorni sui giornali viene fuori che probabilmente è chiusa per un altro mese e quindi purtroppo questo è quello che vediamo. Purtroppo quindi non è un paese per mamme, non è un paese neanche per i giovani, perché infatti i giovani sono un po' sempre lasciati in disparte. Si ritiene per esempio che con la didattica a distanza sia sufficiente per sostituire quella che è la scuola. La scuola non si può fare in presenza, si fa a distanza, va bene, e tutti a casa. Invece in realtà purtroppo abbiamo raccolto dei dati che ci fanno capire che non è tutto così semplice, che per le famiglie e per i nostri ragazzi la didattica a distanza non è soltanto qualcosa di positivo e che possono affrontare senza problemi. I dati che vi presento oggi sono presi da due diverse ricerche, una è l'Università degli Studi Milano, la Bicocca, che ha fatto una ricerca, che ne pensi, la didattica a distanza vista dai genitori e la seconda è di fattore mamma, l'abbiamo fatta noi, è io resto a casa, come cambia la vita familiare ai tempi del coronavirus. Allora, intanto vediamo qualche dato su quanti hanno potuto accedere alla didattica a distanza. Allora, circa, come vedete da questo grafico, circa il 49% segue le lezioni giornaliere, giornalmente, e di questi, il 49%, il 18% riesce non solo a seguire una didattica a distanza, ma a fare anche dei momenti di verifica. Però che cos'è questa didattica a distanza? Allora, alcuni ricevono compiti dagli insegnanti, probabilmente sono quelli della fascia più piccola. Alle elementari spesso succedeva che, e succede, adesso forse loro sono a scuola, ma insomma è successo per quando c'è stato il lockdown, il primo lockdown, che sostanzialmente la scuola, tra l'altro alla scuola la didattica a distanza è arrivata un po' tra capo e collo, all'improvviso, quindi non era neanche pronta a reagire immediatamente in velocità. Quindi diciamo che le prime cose è stato mandare dei compiti a casa da fare, delle schede, le famose schede che si stampavano e poi si incollavano sui quaderni. Ecco, l'83% aveva questo tipo di didattica a distanza. Poi qualcuno invece, circa un 13% seguiva saltuariamente una didattica a distanza e poi c'è il 31% tutti i giorni e poi il 18% di cui ho già parlato prima, che faceva anche le verifiche online. Come impatta la didattica a distanza sui tempi della famiglia? Per la scuola primaria sono circa 3.2 ore al giorno, per la scuola secondaria 2.8 ore al giorno e 2 ore per la secondaria di secondo grado. I genitori quindi sono coinvolti per parecchie ore al giorno, perché poi se pensiamo che i ragazzi più grandi la gestiscono da soli è un conto, ma purtroppo invece se parliamo di scuola primaria ci vuole un sostegno da parte dei genitori, quindi la famiglia è coinvolta nella didattica a distanza, volenti o nolenti, anche se la scuola di solito è solo un affare da studenti, ma in questo caso no, è un'attività tra l'altro difficilmente conciliabile con il lavoro. Quindi il 49% degli intervistati ha dichiarato di fare fatica a conciliare il lavoro e a supportare insieme anche i figli durante la DAD. E infatti quando siamo andati a chiedere quali erano i sentimenti verso la DAD che provavano i genitori, purtroppo le parole che ci hanno, le emozioni che ci hanno rimandato sono frustrazione, solitudine, rabbia, ansia. Questo è stato per i genitori la didattica a distanza. Ovviamente abbiamo chiesto anche quali potevano essere i pro e i contro della didattica a distanza per le famiglie, i pro ovviamente lo vedete, l'utilizzo di tecnologie digitali per lo studio, la possibilità di conoscere maggiormente le attività didattiche dei propri figli, perché alla fine la scuola la facevano in casa e quindi i genitori potevano rendersi meglio conto di cosa facevano i ragazzi, che invece la scuola quando arrivano a casa cosa hai fatto, oggi niente. Ecco, invece adesso riuscivano a conoscere di più cosa facevano i ragazzi a scuola e acquisizione di nuove competenze digitali da parte dei bambini. Però c'erano anche tanti contro, quindi le relazioni a distanza con i compagni ovviamente totalmente saltate, questo direi che è una delle cose peggiori, relazione anche con gli insegnanti a distanza e anche qui una perdita enorme, quantità di compiti da svolgere che prima svolgevano a scuola tutti insieme e sappiamo bene che ovviamente è più facile anche per i ragazzi fare le cose insieme, eccetera, i lavori di gruppo e queste cose sono saltate tutte, scarsa varietà della proposta didattica e difficile bilanciamento del tempo dedicato alle lezioni, ai compiti e allo svago. Per quanto riguarda le maggiori preoccupazioni che i genitori hanno avuto rispetto alla didattica a distanza, dicono che è possibile una didattica che mantenga il più possibile la socialità, cioè come facciamo a trasformare questa didattica e a renderla più sociale possibile? La difficoltà di adeguarsi da un punto di vista tecnologico, cioè noi parliamo di didattica a distanza e siamo convinti che tutti possano avere un computer, un iPad, un telefonino con cui connettersi, ma questo non è la realtà, non è il mondo reale. Tanti non avevano strumenti sufficienti per tutti in famiglia e allora la mamma o il papà che prestano il computer al ragazzino per fare scuola vuol dire che la mamma e il papà che stanno facendo smart working in quel periodo non possono lavorare, quindi anche questo è un problema molto molto grande da affrontare assolutamente. Difficoltà a dedicare tempo per seguire la didattica insieme ai figli? Ripeto, quelli più grandi potevano studiare da soli sostanzialmente, ma i più piccoli ovviamente no. Insegnanti non preparati a utilizzare gli strumenti di learning, perché molti insegnanti si sono trovati all'improvviso catapultati nel mondo della didattica digitale senza avere mai provato e quindi si sono trovati in difficoltà. E la preoccupazione per i soggetti più fragili, quelli che venivano seguiti di più a scuola e che invece hanno perso anche il sostegno della scuola, del gruppo e degli insegnanti di sostegno. Io vi ho messo anche qualche commento, poi le slide saranno rese disponibili credo e quindi li potrete andare a leggere. Un'altra cosa che ci hanno detto i genitori è che la DAD è inconciliabile col lavoro. Infatti il 65,5% ha detto che non è conciliabile col lavoro che sta svolgendo, il 65,2% dice che non è sostenibile neanche un regime didattico misto di quelli, non so, 50% dei ragazzi in classe e 50 a casa, comunque è difficile da sostenere anche per i ragazzi oltre che per loro e addirittura un 30,3% ha dichiarato che se la didattica a distanza andrà avanti ancora sarà costretta a lasciare il lavoro. Tra l'altro se vogliamo, possiamo fare una riflessione in più, mi viene da fare come fattore mamma che se conosco le famiglie e le problematiche di questo 30% quanti saranno donne? Vi faccio questa domanda, quante saranno mamme? Perché alla fine, purtroppo dovrebbe esserci la parità, i figli si fanno in due, però poi alla fin dei conti, quelle che stanno più dietro ai figli, specialmente piccoli a fare la DAD, sono soprattutto le mamme. E quindi questo è un po' i dati che mi veniva da presentarvi, quindi diciamo che la didattica a distanza non sembra essere tutta rose e fiori, ma adesso vorrei andare ad approfondire appunto questi discorsi e questi dati con i miei ospiti e partirei subito da Alberto Rossetti. Buongiorno, eccoci qua. Eccoci. Eccoci. Allora Alberto ci diamo del tu, va bene? Ascoltami, dal tuo libro che abbiamo già citato prima, Tutti a casa, tu hai parlato del digitale durante il lockdown, ha avuto un ruolo importante nella vita dei giovani, sono testimonianze che tu riporti nel libro, sono soprattutto una raccolta di testimonianze, dove tu dici che appunto durante il lockdown la digitale ha avuto questo ruolo molto importante, i ragazzi non potevano più vedersi fisicamente, per cui cosa facevano? Videochiamate, dirette live, gioco, chat, tutto quello che potevano fare per restare in contatto anche se non fisicamente. Però dalle testimonianze appunto che tu hai raccolto, mentre all'inizio magari poteva esserci entusiasmo, eccetera, poi pian piano inizia a emergere anche un retrogusto amaro, cioè un progressivo senso di stanchezza dei ragazzi rispetto al digitale, per queste relazioni che non sono più fisiche, che sono solo connesse digitalmente. C'è uno spegnersi dell'entusiasmo iniziale, è giusto? È corretto? Sì, assolutamente. Io ho raccolto questi, insomma ho intervistato, ho incontrato tramite ovviamente Zoom, Whatsapp, telefono, ragazzi soprattutto del nord Italia e poi ragazzi in Sicilia, tra marzo e maggio. Il digitale era assolutamente parte integrante della vita di tutti loro, come anche di noi adulti, nel senso che inizialmente è stato un po' vissuto quasi come una sorta di salvagente, come qualche cosa che nel momento in cui tutto si ferma, beh però abbiamo il digitale, però abbiamo i social network, però abbiamo le chat, abbiamo le videochiamate e che inizialmente anche come mondo adulto abbiamo interpretato, diciamo, l'utilizzo del digitale in questo modo, no? Come dire, vabbè, è vero, è tutto fermo, però se non altro c'è questa opportunità che i ragazzi oggi hanno e tra l'altro sono anche molto abituati. In effetti l'utilizzo che ne è stato fatto, soprattutto all'inizio, è stato molto importante, molto intenso e non sono mancati anche tante, diciamo, situazioni in cui i ragazzi hanno dato prova della loro creatività, no? Utilizzando il digitale. Quindi anche tante esperienze positive. Però nel momento in cui questa situazione si è un po' sedimentata, in qualche modo è stato chiaro che non si sarebbe andati avanti in altro modo che non in quello, qualche cosa si è un po' spento. Ecco, io ho notato proprio questa sensazione di, anche un po' di timore, no? Come dire, vabbè, e quindi adesso abbiamo usato tutte queste tecnologie, però non riusciamo davvero più, non potremo più davvero incontrarci. E personalmente mi ricordo i primi giorni di marzo, quando alcuni professori mi chiamavano e mi dicevano che stavano iniziando a fare le lezioni online, che la mia impressione al telefono era dire addirittura, cioè abbiamo appena chiuso, siete già lì che vi preoccupate di come fare scuola online. Voglio dire che all'inizio questa situazione è anche un po' di emergenza che si era venuta a creare e ci ha un po' scombussolato, ci ha fatto reagire anche positivamente, no? Come si reagisce di fronte alle situazioni di crisi. Però poi quando la situazione si è sedimentata, i problemi sono venuti fuori. Ora, quello che molti ragazzi hanno raccontato, mi hanno raccontato nelle loro chiacchierate, è che hanno vissuto qualche cosa che non è così comune da vivere in adolescenza. Non lo è per noi adulti, ma non lo è neanche per loro. Cioè, hanno provato sulla propria pelle cosa significa vivere un vuoto relazionale. E questa è stata un'esperienza davvero molto forte e molto intensa, perché un conto è andarsi a cercare la solitudine. E questo magari i ragazzi più grandi potevano anche avere interesse di farlo, ma ripeto, andando a cercarsela. Un altro invece è trovarsi improvvisamente immersi in un vuoto, in cui le relazioni che tutti i giorni avvenivano, comprese quelle scolastiche, sono scomparse, sono venute meno. E ci siamo resi conto di quanto il quotidiano abbia bisogno delle nostre abitudini, delle nostre relazioni, di quei momenti per vivere assieme. In quel momento lì, le nuove tecnologie si sono un po' spente. Nel senso che hanno in parte rivelato quanto non possano sostituirsi alle relazioni tra di noi, quanto sia faticoso generare relazioni tramite questi strumenti che in qualche modo ci aiutano ad ampliarle, ci aiutano a raccontarle, ci aiutano in qualche modo a allargare i nostri orizzonti, ma diventano molto carenti nel momento in cui devono crearle. Che non significa che non si possa fare, e magari questa cosa poi la riprendiamo, perché possono generare relazione. Questa, secondo me, è la vera sfida. Però è molto complicato ed è anche molto impegnativo. un'altra cosa, secondo me, è la vera sfida, perché lei facesse così fatica nel vivere le relazioni. Mi dice, all'inizio ci vedevamo tantissimo e poi qualche cosa è venuta meno. Mi dice così, con gli amici invece qualcosa è cambiato. Lei si chiama, chiedo scusa, Marta è a 18 anni, quindi piuttosto grande. Non è tanto il non vedersi, è che non facciamo più delle cose insieme. Per esempio andare a scuola, all'intervallo, le due parole con il compagno di banco, non so cosa è così. All'inizio passavamo tanto tempo in videochiamata, ci raccontavamo come stavamo vivendo il lockdown, cosa avremmo voluto fare una volta tornati a scuola, ora molto meno, perché non sappiamo più cosa dirci. È quello che cercavo di spiegare, non facendo più cose insieme, abbiamo meno aneddoti o battute o scherzi. Allora, con alcuni, abbiamo cominciato a darci appuntamento per vedere qualche serie tv insieme. Oppure leggiamo un libro ad alta voce, ascoltiamo canzoni, cerchiamo argomenti di cui discutere quanto ci sentiremo. È un modo come un altro per stare insieme, per avere qualcosa in comune. Quindi qui abbiamo anche l'invenzione, no? Cioè, come far sì che si possa generare relazione, trovando qualche cosa in comune di cui poter parlare. Eh sì, quindi per fortuna diciamo che i nostri ragazzi, appunto, pur avendo questa difficoltà dopo un po' a connettersi, perché si sfilaccia un po' questa relazione solo digitale, diciamo che loro ci mettono l'impegno per trovare qualcosa di diverso, un modo diverso per connettersi, come dicevi, leggevi adesso la testimonianza, guardare serie insieme. Ecco, sentire canzoni insieme. I ragazzi per fortuna sanno un po' reagire. Però comunque ha prevalso questo senso, questa demotivazione, questo senso di isolamento e noia. Allora tu, che cosa potresti suggerire a un docente, a un insegnante, per riattivare un po' più di emozione e di voglia di sentirsi e di vedersi comunque? Allora. Anche digitalmente, perché quello ci abbiamo purtroppo. Certo, dobbiamo un po' fare con quello che abbiamo, senza dubbio. Eh sì, eh sì. Ma penso che si debba in qualche modo sfruttare, beh innanzitutto cercare di essere più interattivi possibili, cioè cercare di sfruttare l'aspetto interattivo che le tecnologie ci permettono di avere. Limitare quelli che sono le lezioni, diciamo, classiche a cui eravamo abituati, ma portare molto di più i ragazzi a lavorare, ecco, su qualche loro prodotto, su dei contenuti, fare ricerche, cioè spingerli in qualche modo a essere più attivi, più propositivi. Penso che il lavoro di gruppo in una fase come questa sia fondamentale, no? Quindi rinunciare al controllo della classe e dare la fiducia ai ragazzi che in quell'ora lavoreranno in gruppo, lavoreranno tra di loro e la fiducia che questo che noi gli stiamo chiedendo verrà in qualche modo preso da loro in maniera molto responsabile. Perché altrimenti se non li attiviamo, se non in qualche modo li portiamo ad attivarsi dietro a quel computer, il rischio, che è quello che molti ragazzi ci raccontano oggi, perché anche la scuola secondo me ha avuto un picco di interesse a marzo, diciamo così, e poi in qualche modo è andato scemando e questa seconda ondata è partito senza quel picco di interesse, a mio avviso almeno da quello che ho un po' ascoltato, altrimenti la distrazione è altissima dietro a quel computer, perché a casa, con tutti gli stimoli che ci possono essere, con un computer che è interattivo, con uno smartphone di fianco, il tablet, è davvero difficile rimanere concentrati e in qualche modo la didattica tradizionale è una didattica che in quel contesto lì, dove non siamo nello stesso posto, dove la scuola, che sarà in qualche modo a tanti limiti, però sono delle mura che anche da un punto di vista simbolico segnano un cambiamento tra la casa e il fuoricasa, quindi sono in un altro posto, la casa non aiuta a rimanere concentrato. Quindi bisogna davvero essere molto più creativi e forse io penso che bisognerebbe anche un po' ridurre un po' le aspettative e le pretese, è il momento, io credo, non sono un esperto in questo campo, però è il momento di mettere in discussione anche alcuni aspetti della didattica tradizionale, ci sono professori che come sempre in mondo pioneristico si stanno buttando verso il non dare valutazioni, verso il puntare sull'autovalutazione dei ragazzi, fargli produrre dei materiali e questo è un po' il momento anche di sperimentare tutto questo, perché altrimenti il rischio è quello di avere spostato una scuola tradizionale, diciamo così, online, senza esserci conto che hai cambiato il contesto e questo è fondamentale, anzi è centrale. Sì, senza adeguarsi giustamente al contesto, certo, certo, va detto che non è una roba facile, il problema è che è arrivata tra capo e collo e ovviamente anche questo c'ha i pro e i contro, perché ha costretto comunque tutti a cambiare la propria visione e a cercare di adeguarsi. Detto ciò, ci vuole poi, dopo questo scossone, speriamo che pian piano tutti riescano ad adeguarsi. Ecco, e per quanto riguarda invece i genitori, avresti tu dei suggerimenti da dare per sostenere questi ragazzi che sono ormai davanti allo schermo o senza altre alternative per ora? Allora, sicuramente riconoscere il ruolo che le tecnologie hanno è sicuramente importante da parte dell'adulto e del genitore, quindi quanto le tecnologie, anche riprendendo quello che è stato durante la prima ondata, quanto le tecnologie sono state un link, un collegamento, un filo che ha tenuto in rete i ragazzi. È chiaro che non potendo giocare insieme all'aria aperta, il fatto di poter giocare tramite un videogame diventa una valida alternativa, di nuovo fare un'esperienza in comune. Però è evidente anche di, è evidente come tutto questo preoccupi anche, perché le ore passate davanti al computer, le ore passate nella propria camera rischiano in effetti di essere parecchio, parecchio numerose, parecchio elevate. Quindi da un certo punto di vista, ovviamente dare questa opportunità, non combatterla più di tanto, ma dall'altra parte stimolare anche un po' il ragazzo a non rimanere eccessivamente preso dentro questa dimensione che ha a che fare con la rete, con l'online. E questo lo si può fare secondo me cercando di capire che cosa sta facendo lui di fronte al computer. Perché appunto un conto è rimanere passivamente a guardare dei video, un altro invece è guardare dei video insieme e commentarli, condividerli. Sono due azioni completamente differenti. L'altro aspetto che secondo me, insomma, in questa seconda ondata, c'è l'opportunità di comunque avere degli spazi all'aria aperta, non dobbiamo dimenticarcelo. E questo secondo me bisogna un po' anche spingere i ragazzi a prendersi questi spazi, ovviamente nel rispetto delle leggi, di quello che sono le situazioni di sicurezza, però il fatto di poter anche un po' uscire da quella camera, visto che in questo momento è possibile farlo, penso che sia molto importante. Non è un bene il fatto che i ragazzi siano così resilienti, come si dice, e che se ne siano bravi nella propria camera. È una necessità che in questo momento forse abbiamo come società, che ha dei costi però non indifferenti, in termini anche di salute poi di questi ragazzi. Non parlo nel futuro, parlo proprio di adesso, della loro salute attuale. E quindi da un certo punto di vista stimoliamoli anche a prendersi quegli spazi che gli sono consentiti. Come lo facciamo per noi? È bene che anche loro si forzano. Che lo facciano anche loro. Certo. Certamente. Adesso invece vorrei farti più una domanda di attualità, mi verrebbe da dire, perché mi ha colpito molto la storia, la settimana scorsa, di una dodicenne che a Torino si è messa a fare la DAD, ha portato il suo banchettino davanti alla scuola, lei è una ragazzina delle medie, 12 anni, e si è messa a fare la sua DAD però davanti alla scuola con il suo banco, per sensibilizzare ovviamente contro, cioè per sensibilizzare sul disagio dei giovani verso la DAD. Ovviamente questa notizia è stata riportata dai diversi giornali, adesso mi pare sulla pagina dell'Huffington Post su Facebook, io ho letto diversi commenti che mi hanno lasciato veramente un po' senza parole, tipo, non è farina del suo sacco, dietro ci sono i genitori che cercano visibilità. E drogarsi come la maggior parte dei ragazzi della tua età? No. Tra poco andrà da Barbara D'Urso e poi magari più in là la vedremo al grande fratello. Ecco, questi sono il tono dei commenti sotto alla notizia di questa ragazzina di 12 anni che si è messa al banchetto dell'antiascola. Allora, guardando e leggendo i tuoi libri, tu fai una narrazione dei ragazzi di oggi che è totalmente diversa, cioè la tua voce si leva a tratteggiare una generazione molto diversa da quella che i media e i social ci vorrebbero restituire. Secondo te, che cosa sta dicendo questa dodicenne davanti a scuola? Cerchiamo di far capire qual è il suo messaggio e come possiamo far comprendere il malessere dei giovani a tutti quelli che non lo capiscono e che mettono dei commenti di tal fatta sotto i post. Sì, a parte che Barbara D'Urso e il grande fratello sono un prodotto del mondo adulto, quindi se ci va è perché il mondo adulto ha interesse a fare. Però no, per dire che, parto da questa battuta, ma per dire che in qualche modo sono tutti dei modi per difendersi da quello che secondo me è un messaggio molto semplice, molto chiaro. Io credo che dobbiamo interpretare quel tipo di manifestazione, tra l'altro anche molto rispettosa, molto silenziosa, perché non mi sembra abbia fatto questa cosa, anzi questa cosa ha attivato anche un po' altri ragazzi da altre parti d'Italia, in cui semplicemente si chiede il perché la nostra scuola continua a essere messa un po' in fondo a quelle che sono le priorità. In questo momento di emergenza questo è molto evidente, ma nei momenti di emergenza è stato meno evidente, ma è avvenuto ugualmente. E penso che come mondo adulto si faccia fatica ad accettare questa critica. Il punto non è secondo me didattica a distanza sì, didattica a distanza no. Cioè al di là di quello che ovviamente i ragazzi portano come loro manifestazioni in questo momento di rabbia, di frustrazione di fronte alla scuola che stanno vivendo ora. Ma il punto secondo me non sta lì, sta nell'accorgersi che i ragazzi hanno voglia di una scuola differente, di una scuola che in effetti diventi il punto da cui partire. Invece la sensazione, questo secondo me è una ferita che ci porteremo nei prossimi mesi, se non di più, perché qual è il rapporto che questi ragazzi oggi stanno vivendo con l'istituzione scuola? Non tanto rispetto ai professori che si stanno facendo in quattro, perché non voglio assolutamente entra in discussione con questo, ma rispetto a uno Stato, un governo, una società che sacrifica senza alcun problema l'istituzione scuola per altri motivi. E quindi un domani un ragazzo che dirà non voglio più andare a scuola, perché tanto non gliene frega niente a nessuno del fatto che io vado a scuola, sarà assolutamente purtroppo in linea con quello che sta vivendo in questo periodo. Secondo me questa è la ferita maggiore e non basta solo dire riapriamo, per carità, facciamolo. Però significa davvero ripensare la scuola sotto diversi punti di vista e le teste in Italia per ripensare la scuola ce le abbiamo tra i professori, tra gli studenti e non solo. E quindi dobbiamo davvero approfittarne e non tornare a una condizione come quella di prima. Senza contare e chiudo che quest'estate sono state fatte delle promesse che in qualche modo non sono state mantenute. E tutti noi sappiamo che un adolescente è molto sensibile all'ipocrisia dell'adulto. Quindi. Sì, questo è assolutamente vero. Anche perché, come dicevi tu all'inizio, loro sono molto rispettosi. Io lo vedo anche, veramente, anche con i miei figli, sono tutti rispettosissimi delle regole, delle cose. Cioè loro ci tengono particolarmente. Poi però, se la risposta che ricevono è opposta o non mantiene le promesse che ha dato, ovviamente per loro è molto forte e molto deludente. Ricevono poi una delusione molto forte, è difficile poi riuscire a riavere la loro fiducia. Ecco. E la fiducia dei giovani, secondo me, noi dobbiamo averne in loro e loro in noi. Questo è fondamentale. Va bene. Grazie per il tuo intervento, Alberto. Adesso introduco il passo ad Elisa. Però volevo ancora ricordare a chi ci sta seguendo che se vuole fare delle domande ad Alberto o anche alle altre che parleranno ora, può mettere le domande nella chat qui vicino alla diretta e io poi le passerò, alla fine degli interventi, le passerò ai miei ospiti. Ma adesso passerei ad Elisa. Elisa, eccoci qua. Buonasera. Allora, buonasera caro. Allora, in alcune precedenti nostre chiacchierate, perché noi ci conosciamo da un pezzo con Elisa, durante il lockdown, tu mi avevi raccontato che sul tuo sito Mamamo avevi visto che aumentava il traffico appunto proprio durante il lockdown, perché c'era un nuovo interesse su contenuti digitali di un certo livello per le famiglie e per i ragazzi. È così? Sì, sì, te l'avevo segnalato. Tra l'altro è una cosa che si sta tornando ad evidenziare quest'autunno. Scusami, tu vedi le slide? Tu le vedi le slide? Sì, io non vedo. Ok, perfetto. Io non le vedo. Devi cliccare in basso a destra, credo. Vado, vado subito. Benissimo, vai. Sì, io mi aiuto con qualche slide per rendere un po' più concreto anche le mie parole, che diversamente potrebbero magari essere non sempre comprensibili. Questo che vedete a sinistra è il nostro portale, amamo.it portale attraverso il quale ci rivolgiamo a genitori, insegnanti, bibliotecari in temi, il tema è l'educazione digitale e i contenuti di qualità. Quello che abbiamo rilevato nel corso dei mesi del primo lockdown in primavera è stato che i contatti del sito erano notevolmente aumentati, erano arrivati a triplicarsi. Abbiamo capito ovviamente che in quel momento il digitale, degli schermi dei nostri computer, dei telefoni, erano la nostra finestra sul mondo. Quindi in parte si giustificava con questo. In parte però siamo state molto curiose di capire attraverso un'analisi dei dati che cosa stesse succedendo. E ci sembra che sia successo anche qualcosa in tutta la negatività, tra l'altro che poi io vivevo sul territorio di Bergamo, nel territorio degli stati generali della scuola, quindi particolarmente bui, particolarmente drammatici, però appunto abbiamo trovato che emergessero delle cose positive. Diciamo che il nostro sito, per chi non lo conosce, fin da quando è nato, nel 2012, si è voluto occupare del digitale come opportunità, come contenuti, cose belle che noi possiamo fare con i bambini, con i ragazzi. E quindi abbiamo sempre puntato a sottolineare l'esistenza di contenuti digitali, creativi, narrativi, ma di valore. A un certo punto però ci siamo accorti che insieme a questi schermi arrivava anche un'emergenza educativa da parte di genitori, insegnanti, che si trovavano a dover gestire anche i rischi e le cose negative che arrivavano dalla rete. E quindi per dare una risposta abbiamo ampliato anche la nostra redazione e coinvolto figure di specialisti, psicologi, pedagogisti, proprio per dare una risposta alle questioni educative che i genitori e gli insegnanti si stavano ponendo. Che cosa è successo invece durante il lockdown della primavera? Che abbiamo letto uno spostamento dell'attenzione dei genitori, che se prima appunto cercavano delle soluzioni in rete alle loro domande, domande alle quali difficilmente avrebbero potuto ottenere una risposta rifacendosi alle generazioni precedenti, perché noi siamo una generazione di genitori, mi ci metto anch'io, che non ha modelli genitoriali davanti che dicano qualcosa sul digitale. Tendenzialmente le nostre domande le abbiamo fatte alla rete poi. E per proprio cosa ci siamo accorti che le domande cambiavano, cioè arrivavano al nostro sito non più per chiedere appunto è vero che videogiochi violenti possono rendere i ragazzi aggressivi, ecco una tipica domanda che ci si fa in merito al videoludico per esempio, ma arrivavano sul sito chiedendosi quali contenuti utilizzare in quel momento con i bambini e con i ragazzi. I contenuti che potevano essere tanto per l'intrattenimento quanto per l'aspetto educativo, perché appunto c'era la didattica online e quindi servivano risorse. Quindi alcuni esempi di cosa cercavano. Le app per creare le mappe mentali è stato uno dei contenuti più gettonati, quelli per imparare l'inglese con i bambini, ma anche i videogiochi da usare in famiglia tutti insieme, quindi giocare insieme, condividere l'esperienza del videoludico, fare fitness davanti allo schermo con i videogiochi sempre tutti insieme. E poi le serie tv, ad esempio, quali film guardare in famiglia, oppure i cortometraggi di qualità da guardare con i bambini più piccoli per attivare poi un confronto e un dialogo. Quindi noi abbiamo letto molto positivamente questo spostamento, perché ci sembrava un po' un percorso di maturazione nei genitori, negli educatori che ricorrevano a queste risorse, perché iniziavano a vedere il digitale non soltanto come la risposta alla loro emergenza educativa, ma anche la possibilità di trovare delle risorse utili, positive, negli strumenti connessi. Quindi diciamo che cercavano non solo l'educazione al media, ma anche un'educazione attraverso i media. Questo è un passo in avanti, cioè usare anche questi strumenti per attivare un percorso educativo, di confronto, di dialogo, che è anche, a nostro avviso, utile in termini di prevenzione, in utilizzo di questo tipo dello strumento. Certo. Senti, hai detto che sono anni che osservate il comportamento dei giovani in relazione ai loro consumi mediali. Mi dici cosa state rilevando e come descriveresti l'ambiente mediale in cui vivono oggi? Cosa fanno i nostri giovani online? Fanno tantissime cose. Ecco, perché il genitore magari non ce l'ha ben presente, no? Quante sono le cose che i ragazzi possono fare online? Beh, ne fanno veramente tantissime. Io qui tratteggio alcuni dei loro consumi mediali più o meno attivi, passivi, interattivi. Premetto che noi abbiamo avuto modo di osservare i giovani e le loro abitudini rispetto ai media, non prevalentemente all'interno della scuola, ma in altri contesti. per esempio al Salone del Libro di Torino dove abbiamo curato per anni i laboratori digitali coinvolgendo poi anche realtà che producevano contenuti digitali dai videogiochi o associazioni che si occupavano di coding, di robotica e coinvolgendo classi che andavano dalla materna alle superiori. e abbiamo visto appunto quale fosse il loro interesse per questi contenuti. Li abbiamo visti coinvolti in eventi anche per esempio abbiamo capito in questi eventi il ruolo che lì anni fa abbiamo colto l'interesse per gli youtuber, cioè reazioni di entusiasmo che noi ci aspettavamo di fronte al cantante famosissimo. Ecco, lì vedavamo, toccavamo con mano che l'arrivo dello youtuber scatenava una reazione molto simile a quella dell'apparizione di un divo o di un cantante. Quindi con degli spostamenti molto interessanti da osservare nei comportamenti e del loro immaginario anche. Altri contesti come la Game Suite di Milano come la Milano Game Suite è dove appunto si parla intensivamente si vedono intensivamente i videogiochi oppure Luca Comics and Games che è un altro contesto pieno di giovanissimi che vivono la loro passione per questi universi narrativi che ormai sono ovunque sono dalla carta al videogioco. Quindi abbiamo osservato in relazione a contenuti mainstream quindi famosissimi conosciuti da tutti condivisi da tutti e poi invece anche in relazione magari a nicchie di contenuto con finalità più educative. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto innanzitutto che per loro ormai il contenuto li segue ovunque il contenuto non si vincola più solo allo schermo della televisione perché è un film o a quello del cellulare quello della console perché è un videogioco tutto può passare da uno schermo all'altro il contenuto migra sostanzialmente come migriamo noi migriamo all'altro anche il contenuto ci può seguire e quindi diventa portabile e fruibile in qualsiasi momento in cui si trovano dalla fermata dell'autobus alla famosa pausa tra una lezione e l'altra durante la didattica a distanza. Su questi schermi che cosa frequentano? Innanzitutto delle piazze virtuali di socializzazione sono virtuali ma sono molto reali in realtà questi spazi sono i social network che noi come adulti i social network li conosciamo insomma li frequentiamo un po' di più e li conosciamo un po' meglio ma mi viene in mente tutta la dimensione del gioco connesso online chi è in casa adolescente sa che cosa è successo durante il lockdown in primavera sa che moltissimo tempo è stato dedicato al gioco online per esempio Fortnite uno su tutti che non era più solo il videogioco ma diventava il punto di incontro c'era l'appuntamento serale anche perché Fortnite si gioca con le cuffie si potevano parlare in gruppo e se li si ascoltava si capiva che si passava dal parlare del gioco al hai fatto i compiti tua madre che cosa ti sta chiedendo e a parlare anche di qualcos'altro e sono spazi dove avvengono anche delle cose che però sono molto reali quello che vedete in questa immagine è il concerto di Marshmallow che si è tenuto in una piazza di Fortnite a febbraio dell'anno scorso e erano presenti ai 7 agli 8 milioni di giocatori questo significa che per loro e mio figlio era tra di loro e l'evento era vero per loro non era un evento virtuale le emozioni che loro avevano erano di esserci e di aver partecipato a qualcosa di molto concreto lì nell'angolino invece vi segnalo Twitch che è un'altra piattaforma su cui si stanno spostando tantissimi ragazzi che non frequentano solo YouTube Twitch è una piattaforma su cui avvengono i live streaming cioè si 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 trasmette in diretta nasce soprattutto legato al mondo dei videogiochi dove appunto si videogioca intanto ci si filma e cioè chi ci sta osservando può anche interagire con noi attraverso una chat un po' il bello della diretta del videogioco e si sta spostando anche da altri settori alla musica per esempio e sappiamo anche bene quanto il live streaming sia diventato importante durante il lockdown anche per noi cioè tutta questa dimensione che stiamo vivendo oggi è vissuta in streaming e quindi queste piattaforme hanno preso ancora più evidenza e importanza anche nella vita dei ragazzi abbiamo poi l'utilizzo invece di tanti tantissimi contenuti che si sono un po' smaterializzati e che sono diventati contenuti accessibili attraverso l'online si sono smaterializzati quindi abbiamo delle library che si chiamano infinite di contenuti c'è l'imbarazzo della scelta veramente ognuno di loro non potrà mai verosimilmente consumare tutto quello a cui si si abbona e lì si fruisce film serie tv la musica le news il contenuto è veramente infinito ognuno di loro può trovare la propria nicchia anche in questi contenuti contenuti che tra l'altro possono essere anche free perché se pensiamo a youtube sono poi contenuti che in parte poi se vogliamo vedere un film dovremo pagare la quantità di contenuto è infinita la possibilità quindi di verticalizzare questo contenuto è pressoché anche lì è infinita quando ecco una grande passione nei ragazzi per le serie tv questo ad esempio l'abbiamo riscontrato anche in eventi come Luca Comics e Games i personaggi delle serie tv stanno prendendo molto piede le serie tv Stranger Things oppure anche Black Mirror che indaga proprio i rapporti tra il digitale tra il mondo digitale i media e il reale qui addirittura è una sperimentazione quella che vedete in un film Black Mirror Bandersnatch dove addirittura la narrazione diventa interattiva noi interagiamo con lo schermo della televisione con il telecomando e possiamo decidere degli snodi narrativi differenti quindi arrivare a finali del film diversi proprio per dire anche di quanto stia in tanto importante la dimensione interattiva dei contenuti per i nostri ragazzi che si stanno abituando ad interagire con il contenuto a portarlo un po' dove vogliono e poi le narrazioni che loro vivono su questi schermi che escono da una sola piattaforma e diventano si dice cross mediali per cui in mente il mondo degli Avengers che dal fumetto possono diventare un film possono diventare un videogioco anche in target di età diverse per cui ad esempio ci sono gli Avengers fatti con la Lego per cui vengono giocati anche da bambini più piccoli più giovani poi abbiamo uno su tutti il mondo di Harry Potter che addirittura esce dalla dimensione della carta e dello schermo per entrare in una dimensione fisica sappiamo il grandissimo successo che hanno gli studios di Harry Potter per cui si vuole entrare un po' come a Luca Comics si entra anche fisicamente in contatto con questi universi narrativi che i nostri ragazzi vivono e poi una cosa interessante che sta emergendo in questi anni è sicuramente il ruolo nuovo che ha la voce per le nuove generazioni sappiamo bene che i consumi di podcast di audiolibri sono un consumo che riguarda soprattutto i famosi millennials quindi i 30-35 anni e anche le generazioni precedenti pensiamo che si stanno abituando ad interagire col telefono vocalmente ma anche con i famosi oggetti connessi della casa noi possiamo interagire con la casa attraverso degli smart speaker come quelli che vedete qui nell'immagine per cui la voce inizia ad avere veramente un nuovo ruolo l'oralità diciamo che riacquista una dimensione importante si fanno anche le ricerche su google vocalmente e poi si passa da una dimensione in cui sono dei consumatori di contenuto a una dimensione più viene definita di prosumer cioè diventano anche produttori a un certo punto di contenuto per cui io qui faccio un esempio che è quello di Wattpad che è una grandissima piattaforma sono 80 milioni di iscritti in cui si entra e si può decidere se scrivere la propria storia oppure se leggerla e in questo caso si creano veri e propri eventi di social reading per cui i ragazzi entrano e danno i propri consigli a chi sta scrivendo che pubblica capitolo dopo capitolo chi sta scrivendo è disposto a raccogliere dei suggerimenti e a modificare quello che sta scrivendo e tra l'altro è notevole questa piattaforma perché sfugge alle misurazioni della lettura e siccome qui dentro ci sono soprattutto giovani e giovanissimi che leggono in modo immersivo perché sono testi non sono nient'altro che testi insomma bisogna valutare anche quello che succede in termini di approccio alla lettura e ancora una volta poi l'uscita dal mondo virtuale per entrare in quello reale del scaffale in libreria perché i successi sulla piattaforma di Word diventano poi dei successi ma anche al cinema diventano dei successi non solo in libreria possono diventare anche spunto per una serie tv magari a vedere su Netflix e quindi diciamo che quello che si vive su queste piattaforme connesse inizia a essere veramente qualcosa che poi esce da lì e diventa qualcosa di molto più vivibile anche al di fuori di quel contesto connesso l'ultima cosa sempre interessante è questo aspetto del diventare produttori reinterpretando quello che già trovano in rete quello che hanno a disposizione materiale pressoché infinito solitamente partono dai loro film preferiti dai loro da gesti azioni di personaggi anche del mondo dello sport e lo reinterpretano con i famosi meme che è molto interessante come fenomeno perché poi si può applicare a diversi tipi di contenuto non è detto solo che possa essere una scena di un film buffa come in questo caso me ne ho portato uno molto alto da un quadro di Gabriele Rossetti si arriva si arriva poi a fare ironia utilizzando la lingua latina dimostrando una riappropriazione di un certo livello anche di un contenuto che si trova nella rete dimostrando che appunto c'è poi tutta una capacità qualcosa che viene fuori anche da questa frequentazione di questi contenuti certo molto interessante il tuo scorso sulla loro dieta mediatica perché fanno davvero delle cose che magari i genitori o anche gli insegnanti non sanno e non conoscono perché il mondo digitale comunque è molto più facile come approccio per i ragazzi che ci sono nati dentro che non per la nostra generazione l'abbiamo detto anche prima che si trova a correre un po' dietro al digitale che continua ad avanzare molto velocemente ecco ma questa loro dieta mediatica secondo te ti faccio un'ultima domanda come si concilia col modello di istruzione che ricevono a scuola? Io credo che questo sia proprio un po' il punto cioè della distanza che spesso non sempre però spesso si crea tra questi due mondi una distanza che in una certa misura è giusto che ci sia perché comunque la scuola deve mettere in grado i ragazzi di leggere criticamente questi ambienti e questi strumenti e quindi non si deve adeguare ad essi quindi ci deve essere una distanza che consente ai ragazzi di non assorbire passivamente il digitale ma anche di criticarlo di vedere i limiti di vedere le falle del sistema certo che questi ambienti sono frequentati molto intensivamente dai ragazzi tanto più in questo momento che non possono frequentare molti altri ambienti fisicamente perché le scuole sono chiuse quindi la didattica avviene per la maggior parte di loro distanza sono chiuse le palestre non possono fare sport sono chiuse i oratori altri spazi sociali quindi a maggior ragione si trovano immersi in questi mondi connessi lo sforzo che noi possiamo fare come adulti innanzitutto è di osservare i ragazzi come vivono cioè di guardarli come diceva Alberto di guardarli mentre usano questi strumenti di chiedersi che cosa stanno facendo quando sono connessi e poi di capire anche facciamo un passo in avanti di capire quali competenze stanno mettendo in gioco l'abbiamo visto un po' parlando dei dei meme di Wattpad perché si stanno attivando delle competenze che potrebbero diventare cruciali anche in ambito non solo della propria vita mediale ma anche magari nell'ambito della propria vita professionale magari un domani c'è uno studioso che applica un ribaltamento molto forte che è l'americano Jordan Shapiro che ci dice che sostanzialmente i ragazzi sono legati a questi strumenti in particolar modo frequentano questi piazzi questi spazi virtuali di socializzazione che sono i social media ma che sono anche i giochi connessi che sono la rete perché dice questi sono spazi transizionali loro lì si allenano allenano il loro avatar adolescente dice lui è piuttosto radicale nella sua critica e dice che siamo noi troppo legati alla nostra idea noi vecchi che siamo troppo legati alla nostra idea di adolescenza e ci opponiamo non capiamo che questi sono i loro spazi transizionali vorremmo riportarli nei nostri quindi questo è quello che ci invita a fare sciapiro appunto con una posizione un po' radicale e di farci delle domande proprio su dove noi invece li portiamo per esempio l'altro giorno seguivo un webinar di Alessandro Baricco in cui invitavano i partecipanti a riflettere sulla dimensione dell'errore sull'esperienza dell'errore e ci chiedeva di paragonare come un ragazzo di oggi vive l'errore quando fa un videogioco quando gioca per videogiochi e quando è invece a scuola nel videogioco è fisiologico il gioco si fa sbagliando sostanzialmente io muoio mi rialzo ricomincio e fino a che non ho superato il livello ci posso riprovare non succede nulla mentre nella scuola ovviamente l'esperienza dell'errore è un'esperienza più bloccante può essere anche più definitiva può dar vita a un giudizio negativo e dobbiamo pensare appunto che un ragazzo vive la mattina un'esperienza di errore e il pomeriggio un'esperienza completamente di errore quindi probabilmente il tema è proprio quello di chiedersi come questi ambienti si possano parlare e queste competenze diverse che gli vengono chieste possano in qualche modo essere conciliato anche nel campo dell'apprendimento un altro tema molto discusso è quello dell'attenzione ad esempio noi tendiamo a vedere i bambini più distratti le famose menti da cavalletta che non riescono a concentrarsi che non approfondiscono più e saltano da un contenuto all'altro e invece anche qui ci può essere un ribaltamento e dire ma non è che questa è l'attenzione funzionale al mondo digitale connesso che è frammentato che non è lineare e quindi questo è il tipo di attenzione quella che viene chiamata appunto l'attenzione dispersiva il multitasking poi in definitiva non è questa l'attenzione che servirà ai nostri giovani per avere un esito positivo nella loro vita produttiva nella loro vita mediale insieme ad altre competenze che li vediamo mettere in campo per esempio quando video giocano per cui c'è il multitasking ci può essere il networking ci può essere la negoziazione con chi gioca online con noi poi abbiamo visto prima l'appropriarsi di un contenuto rielaborarlo personalmente molte altre competenze che vengono poi nominate studiate approfondite nei percorsi di media education che possono diventare funzionali possono conciliarsi e essere affinate anche in un percorso di apprendimento perché appunto poi laddove guidate queste competenze possono dare esiti notevoli sì certo benissimo grazie Elisa per i tuoi approfondimenti ricordo che potete fare domande se volete dopo adesso passiamo all'ultima ma non meno importante ospite che abbiamo oggi che è Valentina Valentina Petri è ha un doppio ruolo oggi qui è sia insegnante che mamma e quindi tu vedi la dad da due punti di vista differenti sia a scuola sia a casa ecco io ti chiederei proprio di spiegare ai genitori che cos'è la dad e soprattutto i suoi segreti i suoi segreti perché io non ti nascondo che dalle famiglie riceviamo sempre anche non so tipo domande tipo perché l'ora dura di meno perché se a scuola fai un'ora e invece di dad ne fai di meno e perché il video alle volte è spento perché delle volte il professore non si fa vedere o l'alunno non si fa vedere perché alcune ore sono asincrone mia figlia mi dice sì di là c'è di là c'è la lezione di ma io invece la faccio fra due giorni ma come mai ecco perché hai mai fatto le domande più difficili cioè spiegami la dad è praticamente è seconda soltanto a spiegami le donne come difficoltà mi vendico mi vendico siccome sei insegnante faccio domande io hai capito hai visto che è un periodo facile no è vero io l'ho l'ho vissuta ma il verbo giusto l'ho subita in realtà sia sia da mamma che da insegnante e l'ho vista anche cambiare perché a parte che non è più la dad ma è la dd la didattica digitale integrata perché non so cosa è cambiato ma intanto è cambiata la sigla perché è fondamentale cambiare le sigle a scuola in Italia genericamente secondo noi siamo partiti a marzo da pionieri così pronti via da un weekend all'altro e con il famoso senno di poi la dad del lockdown la prima è stata un po' pionieristica se vogliamo ma molto più libera perché i primi giorni non si capiva bene rientriamo non rientriamo a mia figlia arrivavano le liste dei compiti le famose liste perché lei è alla primaria ovviamente a noi dicevano sì forse la settimana prossima aspettate poi a un certo punto c'è arrivata una circolare bellissima che diceva sostanzialmente raggiungeteli con qualunque mezzo perché non c'era una piattaforma unica i ragazzi non avevano le attrezzature ma in realtà neanche noi e quindi siamo proprio partiti come l'armata Brancaleone e ci siamo arrangiati ci siamo arrangiati ciascuno in realtà secondo un po' le proprie capacità competenze attitudini quindi c'era comunque una specie di libertà maggiore ripartendo a settembre ce l'hanno strutturata di più perché è vero che ci hanno promesso che saremmo tornati in presenza però poi questo piano B le scuole l'hanno preparato ce l'avevano lì perché insomma un po' era nell'aria un po' non si voleva ma si sapeva e adesso i ragazzi hanno tutti l'iscrizione le credenziali a una determinata piattaforma ogni scuola ha scelto la sua gli strumenti sono stati forniti più o meno insomma c'è stato qualche incentivo poi le scuole si sono date molto da fare per far sì che i ragazzi avessero comunque tutti quantomeno un cellulare da cui seguire la lezione perché comunque noi vediamo al telegiornale sempre anche la bambina la ragazzina di Torino fuori dalla scuola col suo portatilino però vi garantisco che ci sono delle situazioni estremamente difficili dove quando hai tre figli abiti in un paese sui bricchi dove la rete non c'è e devi far fare la dada tutti e tre non è facile e non sono situazioni limite situazioni da oddio il caso umano da mandare al telegiornale al pomeriggio sono situazioni molto più frequenti di quanto non si immagini io ho sperimentato di recente la quarantena della classe di mia figlia sono stata a casa anch'io a fare lezione con il marito di smart working andavamo in tre con viva Dio due computer e un tablet quindi forniti ma la rete andava veniva ragazzi scusate non si sente bene mi devo spostare distanza per cui ci sono ci sono dei problemi si è pensato però di organizzarla e strutturarla quindi ci sono delle ore che sono in diretta live di video lezione davanti ai ragazzi e delle ore che sono invece considerate asincrone si chiamano cioè ore in cui gli insegnanti assegnano delle attività o degli spunti assegnano dei video da vedere delle attività da svolgere che in teoria andrebbero fatte per evitare che i ragazzi stessero sempre davanti al computer qui ci sono un paio di cose da dire la prima è che appena stacchi la video lezione sincrona loro si attaccano al cellulare anche solo per scriversi parlarsi comunicare ma lo facevano anche prima la seconda è che comunque le attività che i ragazzi devono svolgere per queste famose attività asincrone e dove le svolgono al computer perché devono o guardare un video o mandarti un file o sì magari scrivono a mano e poi ti fanno la foto e poi ti mandano la mail per chiederti se ti è arrivata la foto e poi succedono queste cose qui però il carico di tempo che i ragazzi trascorrono davanti al pc è molto lungo e il che spiega le ore più corte le famose ore da 45 minuti a cui loro sono attentissimi tra l'altro perché c'è questo timer che va e quando tu stai parlando ma sono scattati 45 minuti inizi a vedere che ti fanno così come se dovesse atterrare l'aereo e ti fanno segni come in televisione no? taglia che dobbiamo mandare la pubblicità e un po' hanno ragione perché hanno un lasso di tempo prima che parta la call successiva perché adesso sono tutti manager d'azienda quindi prof avviato la riunione scusi sono in una call aspetti perché le consegno l'attività prima che scada la deadline cioè parlano tutti a me sembra di essere a Wall Street cioè compra vendi capisco più niente però la scuola è cambiata e diciamo che ci sono anche i dati positivi il problema del video invece è un problema enorme e io me ne sono accorta l'altro giorno quando ho scritto un post sulla mia pagina che di solito raccoglie commenti ironici perché la mia è una pagina leggera ma io ho scritto un post mettendo in luce una cosa cioè il fatto di aver avuto un giorno a lezione un ragazzo di cui non ascoltavo l'audio non vedevo il video vedevo soltanto il nominativo lampeggiare insomma potevano esserci dei problemi dietro tecnici adesso non svegliamo nulla per motivi di privacy però di tanto in tanto capita cioè di avere effettivamente connessi degli studenti che per mille motivi non hanno i mezzi oppure si sono connessi e poi sono andati a farsi gli affari loro perché c'è di tutto e di più e tu ti ritrovi effettivamente a fare lezione così sotto questo post si è scatenata una polemica inusuale per la mia pagina in cui è proprio così sbocciato il problema del mostrarsi o meno il video cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo perché io in fondo non ci avevo pensato io sono una io mi sono buttata quando è partita la Dada mazzo io ho cominciato a fare i video su YouTube vabbè privati li potevano vedere solo i miei studenti perché avevo due quinte per cui avevo quest'incubo che dovevano fare l'esame poi loro mi dicevano prof più corti tipo 24 minuti ci faccia tipo una web serie perché faccio questi video eterni che potevano guardarsi in qualunque momento della giornata perché gli orari erano andati tutti a ramingo invece adesso noi rispettiamo un orario molto ben definito però per il resto delle categorie lavorative lo smart working ha significato un nascondimento cioè lavori da casa e sei più nascosto sei in ciabatte sei a casa tua in fondo magari sei abrutito e alienato però sei comunque nella tua grotta per noi insegnanti invece soprattutto adesso con le video lezioni che dobbiamo fare tutti è stato un cambiamento enorme perché ci ha veramente buttati a fare una cosa che noi non facevamo il nostro lavoro era entro in classe chiudo la porta e non c'è niente che ti riprende non c'è anzi la tecnologia era satana consegnate tutti i cellulari all'ingresso tutti i telefoni sulla cattedra invece adesso tu sei in video ti riprendono ti screenshotano diventi un meme diventi un video virale non è semplice psicologicamente io credo affrontare questo passaggio noi non siamo non siamo youtuber non siamo presentatori poi comunque i presentatori non so li trucchiano li pettinano li illuminano bene noi facciamo lezione con dietro lo stendino con il gatto che ci salta sulla tastiera è stato è imbarazzante comunque diverso cioè un cambiamento molto forte e per i ragazzi comunque io non credo che sia molto diverso perché mostrarsi costantemente vuol dire resporsi alla possibilità che gli altri screenshotino una smorfia e poi la facciano girare su una chat di whatsapp con una frase cattiva che notino com'è la nostra cameretta non è detto che la vogliamo far vedere sì ci sono gli sfondi finti dovrei imparare a usarli io che ho fatto lezione con 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 dei disegni sulla lavagna con dei disegni con un priapo apotropaico inciso sulla lavagna non me ne sono accorta me l'hanno detto i ragazzi vabbè diciamo che tutta fertilità portava bene non me ne ero d'accordo però sì quando ti metti lo sfondo con il mare dietro alle elementari sei carino e giochi quando lo fai alle superiori dove vai per favore mostrarsi continuamente da una parte è un problema sicuramente di rete perché adesso vabbè hanno fatto questo accordo forse non mangia più giga devo capire come funziona ma stare connessi audio video tutto il tempo la rete cade non funziona noi quando facciamo il collegio docenti ci dicono oscuratevi e zittitevi perché così si sente si vede meglio e quindi è diventata questa cosa qui la 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 perché altrimenti è davvero alienante io parlo a volte a pallini a volte chiedo a turno per favore fatemi vedere a turno così mi sento un po' meno scema a parlare da sola perché adesso parlo da casa ma a volte parlo in un'aula vuota che non lo so se c'è una parola per definirlo ma è qualcosa che davvero ti tocca l'anima perché vedere i banchi vuoti e parlare da soli è un po' il problema del penso che gli attori di teatro lo capiscano bene o quelli che poi fanno televisione perché quando tu fai teatro anche se non vedi nulla e hai il buio più totale hai un silenzio che non è il silenzio irreale dei microfoni spenti senti il pubblico senti se stai andando bene se stai andando male senti una risatina senti respirare senti che c'è gente qui è parlare nel nulla per cui mi spieghi la dad no non te la so spiegare perché è un grande mistero però quello che chiedo così con un appello alla gente di capire è che non magari non la sappiamo fare bene che ci stiamo provando ma sicuramente è qualcosa di molto diverso cioè noi non siamo tutti divulgatori all'Alberto Angela abituati che poi si impapererà pure lui io credo magari la fai e la rifà ah certo mentre invece voi siete in diretta e via bisogna andare quindi e via bisogna andare ma e bisogna andare con buttandosi proprio con la consapevolezza che di là ehm proprio qui ansia da prestazione pazzesca perché di là chi c'è di là ci sono anche i genitori che magari ti ascoltano le lezioni per cui io non ho mai studiato così tanto perché oddio sai scuola magari che ne so butti l'occhio non ti ricordi più una data anche perché poi quando spieghi storia dalla preistoria all'anno scorso ogni tanto ci sono delle mattine dove di quegli sbarioni però di là cominci a pensare oddio ci sono i genitori quindi l'ansia da prestazione tremenda e non è che stai registrando uno speciale per cui no aspetta questa la rifaccio no sei in diretta sempre costantemente tre quattro ore la mattina cinque poi ci dicono eh lavorate poche ore al giorno sì ma aspetta però è è impegnativo è diventato tanto impegnativo per cui è stato un cambiamento molto grosso per i ragazzi sicuramente che si ritrovano così poi è strano anche per i ragazzi vedere il prof che è una creatura che nasce e muore sulla cattedra per i ragazzi il fatto che noi siamo eh che abbiamo un corpo altrove è già strano quando ti vedono al supermercato il giorno dopo ti dicono prof l'ho vista al supermercato come dire sì perché faccio la spesa invece sentono l'esigenza di dire di averti vista in un altro contesto e ti dicono buongiorno se fai lezione alle sei di sera come mi capitava l'anno scorso io l'anno scorso i maturandi li interrogavo a cena perché non avevo tempo per cui alle otto mentre preparavo la cena c'è ripetimi un garetti buongiorno prof perché comunque la scuola si fa buongiorno certo no è stato e quindi così quindi a volte qualcuno sceglie di non farsi vedere ma io non non vi asimo insomma almeno non del tutto poi ci sono chiaramente le video interrogazioni i momenti in cui ti devi vedere però non è così scontato certo certo e sentimi adesso speriamo che prima o poi non sappiamo quando ma alla fine in classe si tornerà speriamo di tornare tutti ecco a quel punto lì secondo te il digitale verrà totalmente dimenticato o ormai è contaminato la scuola tradizionale e verrà utilizzato ancora in modalità ovviamente diversa e con anche la presenza certo ma allora ce lo dicevamo prima quando chiacchieravamo tra noi naturalmente la speranza è che no tutto questo tutto questo dolore sia servito a qualcosa e tutte queste competenze digitali che un po' forzatamente abbiamo acquisito ci servano dunque sulla riapertura delle scuole fammi dire una cosa perché siamo partiti a settembre con le migliori intenzioni e le scuole hanno davvero fatto tutto il possibile quello che è venuto a mancare è stato un po' il contorno perché il problema dei trasporti era prevedibile esploso così a ottobre come se fosse chissà quale novità probabilmente riapriremo con la presenza delle classi in gennaio si spera però le scuole non sono chiuse le scuole sono aperte si fa didattica a distanza da scuola con la presenza di alcuni alunni con i laboratori aperti e poi io lavoro in un professionale per cui mi arrabbio tantissimo quando al telegiornale dicono i licei chiusi fino a gennaio sì ma pure anche le altre scuole cioè ci siamo anche noi che le scuole sono aperte gli insegnanti vanno a scuola con i mezzi che a volte la scuola offre e ci sarebbe da investire un pochettino perché io giro con una borsa che sembra quella di un misto tra un serial killer e un tecnico informatico l'ho postata anche su Instagram la mia borsa c'è un cavo con cui posso strangolare tranquillamente una persona il microfono che mi sono presa perché altrimenti non mi si sente la telecamerina con cui giro arrivo attacco tutti i cavi praticamente è l'inizio di un concerto il backstage di un concerto poi cominciamo a fare queste lezioni e poi smontiamo tutto e ce ne andiamo speriamo che tutto questo ecco abbia una fine con il ritorno in presenza però buttare tutto via no naturalmente perché questa iscrizione alle piattaforme consente di di stipare del materiale che poi i ragazzi possono fruire in un altro momento c'è anche molto avvicinati perché ci allontanati ma avvicinati in maniera diversa c'è una condivisione di materiali i ragazzi ogni tanto mi mandano lo facevano anche prima lo facevano con Whatsapp ma adesso magari sulla cartellina il nostro team di classe ci condividiamo il video il link al film guardi prof che questo link però effettivamente non è proprio non ti preoccupare sprondo io dai banner tutte le sirene di cui parlava prima la dottoressa Salamini le serie tv i libri letti su Wattpad poi alla fine ce li passiamo un po' sotto banco anche attraverso la didattica a distanza perché poi la scuola questo riesce sempre a fare cioè abbatterla la distanza potrebbe essere necessario utilizzarla anche in altri momenti anche meno drammatici io penso agli studenti che sono ospedalizzati a volte succede che potrebbero fruire in qualche maniera oppure gli studenti che fanno attività sportiva a livello agonistico che tante volte ne ho avuti hanno avuto dei problemi di frequenza altalenante che a volte ha pregiudicato l'anno scolastico invece predisporre dei percorsi di didattica a distanza ad hoc io credo che poi diventerà la norma insomma diventerà possibile certo assolutamente speriamo quantomeno sì anche io penso che tutto questo lavoro che c'è stato comunque perché ce n'è stato tanto da parte della scuola io mi auguro che ovviamente si torni prestissimo in presenza ma mi auguro che tutto questo lavoro non vada perso ma anche io dico anche banalmente anche a livello burocratico che il digitale possa poi aiutare la scuola a tagliare via qualche qualche pezzo e qualche qualche difficoltà che la burocrazia comunque sempre porta mi viene da dire anche il registro elettronico c'è già ma per esempio il libretto delle assenze che ancora è così fisico ecco se riusciamo a renderlo magari un pochino più il cartaceo abbiamo il registro elettronico poi abbiamo la piattaforma poi abbiamo il calendario su cui per cui io le cose pensa che certe classi io le ho accorpate per cui per un'ora di lezione faccio tutto compilo il registro di una classe e il registro dell'altra il registro della piattaforma e il registro dell'altra poi mi dici le ore durano poco ma se è un attimo di più magari riusciremo anche a darci una regolata senti ti faccio un'ultima domanda anche a te chiederei quali consigli senti ti senti di dare ai genitori per sostenere i ragazzi che comunque per ora sono ancora chiusi in casa e c'è poco da fare gli devono restare forse ancora per un po' allora io che do i consigli ai genitori fa già ridere così perché predico benissimo e poi razzolo malissimo io in dad con mia figlia avrei dovuto far chiamare il telefono azzurro ma tutti quanti perché poi siamo bravissimi a dire che ha bisogno qui bisogna là e poi sono solo urla e ciabatte che volano detto questo ma non l'ho mai detto e negherò di averlo detto i consigli ai genitori sono il buon senso impone un paio di cose intanto di non stare troppo addosso questi ragazzi perché sono effettivamente sotto dietro l'occhio del grande fratello cioè sono nella loro stanza hanno l'insegnante che ogni tre per due apri la telecamera fatti vedere connessi all'insegnante poi sotto banco si guardano la casa di carta pazienza però comunque sono lì che sono continuamente sotto il fuoco di fila arrivano duemila attività perché l'ansia di prestazione dell'insegnante ha fatto sì che siamo diventati performantissimi ma andiamo da fare di tutto e di più e uccideteci chiederei ai genitori di non sostituirsi perché abbiamo corretto elaborati bellissimi che però francamente ci sembrano un po' poco attilenti con la produzione letteraria precedente dello studente però può anche essere che la Dada abbia aiutato aiutato migliorato no ecco io direi ai genitori mi dico da sola di lasciare un margine di autonomia nella gestione della didattica soprattutto ai più grandi perché sono perfettamente in grado di farlo e al tempo stesso di mantenere un interesse ma un interesse sano che non è il come è andata bene cosa avete fatto niente ma il materiale che propone l'insegnante il video da vedere l'attività da fare può anche essere condivisa che non vuol dire mamma aiutami a farlo perché a una certa età questa cosa non deve più succedere ma può essere il parlarne insieme può essere l'insegnante ci ha consigliato di guardare questo documentario guardiamolo insieme e poi parliamone poi dalla discussione in famiglia magari vengono due spunti che possono finire nel tema però comunque provare a interessarsi ciascuno di quello che fa l'altro che poi è una cosa che si può anche applicare alla didattica tradizionale certo assolutamente Valentina ti ringrazio tantissimo anche a te tantissimi spunti tantissime riflessioni interessanti allora purtroppo il tempo è un po' tiranno quindi vi passerò una domanda sola che vedo che ha fatto Claudia lei dice che all'elementare abbiamo parlato prima abbiamo detto che nel momento della DAD e questa scuola digitale che i ragazzi si trovano ad affrontare è molto bello può aiutare molto il lavoro di gruppo però effettivamente lei dice eh sì ma fatelo un lavoro di gruppo all'elementare diventa un po' difficile cioè finché sono forse le medie e il liceo perfetto possiamo farlo ma quando sono all'elementare il lavoro di gruppo è piuttosto difficile allora mi dice forse possiamo creare delle stanze virtuali come sui social dove crearli noi questi gruppetti di bambini dove andare però cioè quale potrebbe essere la soluzione non c'è o avete qualche suggerimento per i bambini più piccoli ma e bambini più piccoli che fanno la didattica a distanza comunque sì eh sì mi diceva così adesso adesso non è questo periodo forse probabilmente si riferiva al lockdown di marzo quando erano a casa anche elementari che invece adesso stanno ancora andando beh ad esempio il classroom dà delle l'opportunità ad esempio di usare delle lavagne creandone una per piccoli gruppi e lì magari si lascia esprimere in gruppi più piccoli proprio perché altrimenti immagino che condividere lo stesso documento in 20 bambini diventi veramente un caos e quindi magari creare appunto questi più che stanze sui social i social bambini appunto sui social non possono andare non possono avere un account quindi l'ambiente protetto di classroom io conosco classroom poi ci ne sono anche altri dove creare delle piccole stanze condivise tra un gruppo di 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 alunni un piccolo gruppo e invitarli a fare determinati lavori ad esempio c'è lo strumento della lavagna condivisa su cui possono incollare appiccicare io visto meno mia figlia fare delle cose anche anche belle alla fine perfetto se volete aggiungere qualcos'altro o io quelli grandi fatico a farli lavorare in gruppo perché poi a scuola il bello del gruppo è che possono parlare contemporaneamente ed è l'unica cosa che invece con la didattica di stanza non si può fare perché bisogna parlare uno per volta che è la morte del dibattito non che nel dibattito ci si debba parlare sopra però insomma è un po' più comprensibile ho provato a fare dei lavori di gruppo nel senso che ho assegnato a ciascuno una cosa una parte sull'ultima cosa che è uscita stamattina è stata la realizzazione di un video dove la musica era opera di uno studente mentre invece la recitazione la lettura di una cantica dantesca è stata fatta a turno assegnando a ciascuno una parte l'abbiamo fatto prima in classe quindi ciascuno ha provato un po' a leggere ci siamo un po' assegnati le parti tipo tu con questa parte qui insomma il discorso di Ulisse Ulisse è un maschio mi serve una bella voce virile prova tu prova l'altro e poi ciascuno mi ha inviato il suo il suo whatsapp uniti insieme per cui la soddisfazione un po' il principio della catena di montaggio ma è dell'isola quando ciascuno fa un pezzo ma poi si vede un prodotto finito la soddisfazione è maggiore rispetto a Metropolis e la catena di montaggio dove devi soltanto avvitare un pezzo e non vedi mai il risultato però ci sono dei limiti oggettivi eh sì certo va bene allora io vi ringrazio tantissimo ringrazio Alberto Rossetti grazie per essere stato con noi grazie per le tue riflessioni i tuoi spunti grazie Elisa Salamini ciao alla prossima grazie tantissimo grazie Valentina Petri alla prossima speriamo di essere stati utili anche al pubblico saluto tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti